Buonasera e benvenuti alla seconda edizione di G News, apriamo con la cronaca, andiamo a Senigallia, tragico schianto attorno alle 23 di ieri sera all'incrocio del Cernin si sono scontrate una panda alimentata a metano e uno scooter per il centauro Luigi Angeletti, 59 anni di Falconara, non c'è stato scampo ed è morto sul colpo, nell'impatto l'auto coinvolta si è incendiata, il conducente è rimasto incastrato, fortunatamente è riuscito ad uscire dalla prigione di fuoco, è stato soccorso e trasportato al Torrette in gravi condizioni, non ci sono state speranze invece per il centauro che è stato sbalzato dallo scooter ed è finito sul ciglio della strada. Un drammatico frontale oggi intorno alle 14 in via San Francesco d'Assisi, siamo a Porto San Giorgio, la strada dove solo pochi giorni fa era finita fuoristrada una mamma che viaggiava insieme al piccolo di 4 anni, protagonista stavolta il tratto che sale verso la collina. Sul posto è intervenuta anche l'eleambulanza per soccorrere uno degli automobilisti vittime dello scontro. Ad avere la peggio è stato un uomo di 50 anni di Porto San Giorgio che era alla guida di una Fiat Punto e trasportato semicosciente d'urgenza all'ospedale Torrette di Ancona. L'inchiesta ressole, torniamo in Abruzzo, chiederemo formalmente al presidente della regione, Luciano D'Alfonso, di riferire in aula circa le intercettazioni tra lui e Antonio Sorgi durante la prossima seduta del consiglio regionale di martedì 14. Lo annunciano i consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle dopo le notizie di stampa comparse stamani relative all'inchiesta che ha portato all'arresto del dirigente regionale. In quelle intercettazioni, scrivono i consiglieri, si fa riferimento a colloqui tra Sorgi e D'Alfonsi che sarebbero avvenuti alla vigilia della campagna elettorale. Come sempre, il presidente D'Alfonso non si sottrarrà ad essere l'interlocutore attivo anche di curiosità legittima, l'unica condizione è che le risposte siano nelle sue disponibilità. Lo afferma Camillo D'Alessandro, sottosegretario alla presidenza dell'Aggiunta regionale, riferimento all'istanza dei consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle. Ed ora arriviamo in Val di Brata, la ricostruzione del ponte di Campodino, infatti sarà presto realtà. Avviata la gara ad appalto per i tanto attesi lavori che interessano ben tre comuni del territorio, Torano Nuovo, Nereto e Santomero, i particolari nel servizio. Dopo oltre tre anni e mezzo, la ricostruzione del ponte di Campodino diventerà realtà. A darne notizia il sindaco di Nereto, Giuliano Di Flavio, che in una nota stampa ha riferito in merito all'avvio della gara di appalto dei lavori. Gara che si chiuderà il prossimo 20 di ottobre. L'inizio dei lavori dunque è prevedibile per novembre. L'intervento preventivato per la sistemazione e il ripristino del ponte sarà di circa 330 mila euro. Il collegamento rimasto chiuso dalla famigerata alluvione di marzo 2011 aveva di fatto creato non pochi disagi alla popolazione dei tre comuni interessati, Torano Nuovo, Santomero e Nereto. Grazie al costante interesse dell'assessore regionale Dino Pepe si è potuto ottenere l'ultimo parere necessario da parte della regione Abruzzo, a seguito del quale la provincia di Teramo, in qualità di ente appaltante, ha potuto bandire la gara continua di Flavio. Soddisfazione viene espressa dallo stesso assessore Pepe, che ha personalmente seguito l'evolversi della vicenda sin da quando era sindaco del comune di Torano. I sindaci dei comuni interessati hanno espresso gratitudine agli uffici regionali per il rilascio del parere in tempi brevi, riconoscenza al comitato per il ponte di Campodino, che ha sempre tenuto viva l'attenzione sul problema della ricostruzione di un manufatto vitale per l'economia della zona, all'assessore provinciale e lavori pubblici Massimo Vagnoni e al personale della provincia di Teramo, che hanno dimostrato disponibilità e celerità nel bandire la gara e nell'adeguare il progetto al nuovo stato dei luoghi. A tre anni e mezzo dal crollo del ponte si può finalmente dire che la sua ricostruzione non è più una chimera, bensì una certezza. E i componenti della lista civica, i love Torano Nuovo, i consiglieri comunali Luca Frangioni, Francesco Luciani e Daniela De Amicis comunicano con grande soddisfazione l'inizio della procedura per la gara d'appalto per la sistemazione del ponte di Campodino. Un doveroso ringraziamento all'assessore provinciale Massimo Vagnoni, si legge in una nota, per avere preso a cuore questa angosciosa problematica che per alcuni anni ha creato disagio alle famiglie di Torano Nuovo, Nereto e Santomero. Come consigliere comunale ho sempre sollecitato l'ente provincia, prima con l'assessore Romandini e successivamente con l'assessore Vagnoni, per una rapida soluzione tempistica e ritardi nei trasferimenti statali, non hanno impedito alla giunta provinciale di mantenere l'impegno preso anche con i nostri concittadini di Torano Nuovo. E torniamo alla cronaca, andiamo nelle Marche. Una ragazza è stata denunciata a piedi libero dalla Polfer per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Si tratta di una 22enne originaria di Lecco che viaggiava senza biglietto né documenti sul Frecciarossa partito da Bari e diretto a Milano. Quando il capotreno l'ha invitata a scendere alla stazione di Ancona, la ragazza si è rifiutata. L'arrivo degli agenti della Polizia Ferroviaria ha dato in escandescenza. Ha ferito con graffi, pugni e calci uno di loro. Poi ferendosi il labbro con un morso ha cominciato a sputare sangue all'indirizzo dei poliziotti. Comprendendo il disagio psichico della giovane, gli agenti hanno preferito non arrestarla ma calmarla, convincerla a scendere dal treno per ricorrere poi alle cure del 118. La ragazza è stata denunciata a piedi libero e poi rilasciata dal pronto soccorso di Torrette. Fiamme in uno scantinato di via Puccini, allarme nella notte a Porto Potenza Picene. È accaduto nel seminterrato degli uffici dell'impresa Idile Cimini poco prima delle 21. A dare l'allarme sono stati gli stessi proprietari che hanno sentito un forte odore di fumo. Infiamme materiale cartaceo e sacchi di plastica. Danneggiata l'intera stanza. Sul posto poi i vigili del fuoco di Civitanova e i carabinieri. E nuovamente in Val Vibrata deve scontare tre anni e venti giorni di detenzione per una serie di reati di natura finanziaria. Appropriazione in debita e ricettazione. Inoltre non potrà più esercitare attività di natura commerciale. È stata arrestata ieri su disposizione della Corte d'Appello dell'Aquila Rossanna Farinelli, 60 anni di albadriatica, ma ora domiciliata a Nereto. Il provvedimento è stato eseguito dai carabinieri della stazione di Nereto. La donna nel periodo compreso tra il 2003 e il 2006 aveva commesso una serie di reati per i quali è stata condannata nella gestione di attività commerciali tra albadriatica e tortoreto. La donna è stata rinchiusa nel carcere di Castrogno. Cambiamo argomento, andiamo ad Ascoli. In merito all'uscita del Consorzio Universitario Piceno da parte dell'Unione dei Comuni della Vallata del Tronto, il presidente dello stesso CUP, Achille Buonfigli, risponde a Valerio Lucciarini. Vediamo. Il presidente del Consorzio Universitario Piceno, Achille Buonfigli e il direttore Pierluigi Ramondi, hanno replicato in merito all'uscita del CUP dell'Unione della Vallata del Tronto e dalle dichiarazioni del sindaco di Offida e presidente dell'Unione stessa, Valerio Lucciarini. Buonfigli prende atto che l'Unione dei Comuni evidentemente non ritiene che l'attività universitaria e culturale non rientra nell'attività dei comuni della Vallata, ma l'uscita dal CUP inizialmente non era stata ratificata dal Consiglio stesso. Il recesso non è un illaterale, ma necessita di una domanda di recesso. Di fatto, prosegue Buonfigli, l'Unione ha compiuto un atto illegittimo e inefficace perché non ha norma. Per poter uscire dal CUP bisogna farlo entro il 31 luglio e a quella data noi non abbiamo ricevuto nessuna richiesta. A termini di statuto l'uscita dal CUP, presentata fuori tempo massimo, diventa attiva dal 2016 e non dal 2015. Noi impugneremo al tar questa decisione, prosegue Buonfigli. Sulla vicenda dei presunti stipendi d'oro, Buonfigli ricorda che i membri del CDA del CUP non prendono oggettoni di presenza. Voglio ricordare che i nostri bilanci sono stati sempre approvati all'unanimità, con il parere favoreore anche di Lucciarini, punge Buonfigli. Il Presidente prosegue affermando che per quanto riguarda i costi del personale, ricorda che gli stipendi sono in linea con il contratto nazionale per gli enti locali e abbiamo anche aumentato i part-time. Negli ultimi dieci anni il CUP ha avuto bilanci soltanto con il segno più. Abbiamo anche vinto un progetto europeo di cui 70.000 euro verranno gestiti direttamente dal consorzio universitario. Quindi, prosegue Buonfigli, non c'è nessuno stipendio d'oro. L'uscita dal CUP da parte dell'Unione dei Comuni della Vallata è un evento che danneggia gravemente il nostro sistema universitario in una congiuntura economica grave, dove i finanziamenti per l'università sono sempre di meno. Noi cerchiamo di difendere questo asset strategico per la sopravvivenza del Piceno stesso. Ci chiediamo qual è il vero PD, conclude Buonfigli. Quello che recede dal CUP? Quello di San Benetto che lotta per la propria sede universitaria? O quello di Ascoli che incalza l'amministrazione Castelli sul lavoro del Polo? Restiamo ad Ascoli, il presidente della provincia, Piero Celani, traccia un punto della situazione sulle ultime opere infrastrutturali messe in campo a pochi giorni dalla scadenza del suo mandato. Vediamo. Il presidente della provincia di Ascoli, Piero Celani, fa il punto sulle opere infrastrutturali realizzate, gli interventi in corso di realizzazione, i progetti redatti della provincia e i finanziamenti richiesti. Celani ricorda come la bretella di San Benetto, il Tronto, risalga già al 2007-2008, quando l'amministrazione comunale era già guidata da Gaspari. Il presidente ricorda che il comune aveva già vincolato alcune aree quando la provincia propose l'avvio dei lavori. Troviamo delle soluzioni condivise con l'Anna Smarche, aggiunge Celani. A maggio scrivemmo una lettera alla regione, sottolineando ad aver rispettato tutti i vincoli paesaggistici e territoriali. Il 30 settembre abbiamo sollecitato la scelta perché San Benetto non aveva risposto alla nostra lettera. Gaspari è davvero sfortunato, prosegue Celani utilizzando l'ironia. Il sindaco di San Benetto non può nascondere le proprie colpe sotto la neve, ed è inutile perché la neve si scioglie. Prosegue Celani, noi abbiamo fatto un progetto di massima ma la regione doveva inserirlo nel piano regionale. Anche l'ANAS ha accettato le nostre proposte. San Benetto deve rispondere e non può ignorarci, accusa Celani. La provincia sta inoltre lavorando sull'8-0 della Mezzina, che consentirà di eliminare l'eccesso di traffico sull'asse attrezzato, utilizzando fondi ex ANAS per realizzare la rotonda situata nella zona industriale Picena. A fine anno l'opera verrà terminata, anche se ci sono problemi per la ditta appaltatrice, fallita negli scorsi mesi. Altro lavoro fondamentale è stato l'adeguamento della circonvaliazione nord di Ascoli, dove sono stati ammodernati i marciapiedi, le balaustre e avviata una verifica antisismica. Un progetto che la provincia sta seguendo è la ricostruzione del ponte di Montifiorio e dell'Aso, a cavallo tra le province di Ascoli e Fermo. Torniamo in Abruzzo con sentenza del Tribunale di Pescara. L'ex sindaco di Spoltore, Franco Ranghelli, è stato condannato a restituire al Comune la somma di 37.093 euro, oltre gli interessi. Ranghelli avrebbe percepito indebitamente questa maggiore somma rispetto a quella che effettivamente gli spettava, avendo ricoperto dapprima l'incarico di Presidente del Consiglio Comunale dal 21 giugno 2002 al 29 maggio 2007, in seguito quello di sindaco dal 30 maggio 2007 al 29 agosto 2011. Le sborso è stato sostenuto mensilmente dal Comune a titolo di indennità di funzione. Ranghelli è stato condannato a rifondere le spese legali in favore del Comune e della Soget. E in un clima di grande cordialità, stamani il procuratore della Repubblica di Teramo, Antonio Guerrieri, da pochi mesi alla guida dell'ufficio, accompagnato dai sostituti procuratori Bruno Auriemma e Stefano, Giovagnoni è stato accolto dal questore Giovanni Febo per la prima visita alla questura di Teramo. In Sala di Unione l'incontro con i rappresentanti di tutti gli uffici della questura e delle specialità della Polizia di Stato operanti in provincia. Dopo il saluto del procuratore che ha voluto meglio conoscere l'organizzazione della Polizia sul territorio e i responsabili di ogni articolazione scambiando brevi impressioni sulle problematiche di attualità, il questore ha ringraziato per la vicinanza sempre dimostrata e per la preziosa opera di indirizzo che la Procura della Repubblica ha saputo dare anche in situazioni difficili, assicurando anche in futuro la leale stretta collaborazione con i magistrati. E torniamo alla politica. Le elezioni provinciali sono alle porte, si svolgeranno infatti domenica prossima, 12 ottobre, anche se i cittadini sono poco partecipi a causa della nuova formula che non prevede che si rechino alle urne per la scelta, ma a fermo si profila comunque un confronto dialettico, una pluralità di programmi e visioni politiche. Vediamo il punto della situazione nel servizio di Donatella Lappa e Salvatore Serretiello. Innanzitutto fermo a una particolarità rispetto alle altre realtà marchigiane, dove c'è un solo candidato presidente e diverse liste. Qui ci sono ben tre candidati presidenti e ci sono cinque liste. Qualcuno ha detto che questo dimostrerebbe una frammentazione del territorio. Io non credo che sia vero. Credo invece che sia un valore la competizione democratica, perché ancorché siano elezioni che a noi non piacciono, perché i cittadini vengono espropriati dal loro diritto di voto, è sempre una competizione democratica. Quindi è giusto che ci sia un confronto, ripeto anche se anomalo, ed è giusto che le posizioni non vengano confuse. I programmi sono stati diversi nel passato, lo sono nel futuro. Che vinca il migliore? Io ovviamente ce la metterò tutta e aspetteremo l'esito fiduciosi del 12 ottobre. Se sarò io presidente della provincia, non presidente, ovviamente lavorerò all'insegna della continuità del percorso politico e amministrativo che ci ha condotto in questi cinque anni. Sarà più difficile perché non ci sarà più la Giunta, ci sarà un consiglio a ranghi ridotti perché sono soltanto dieci componenti, le competenze restano le stesse, ci saranno difficoltà ovviamente legate alla mancanza di risorse, però dovremo innanzitutto gestire questa nuova fase perché sarà una provincia diversa nella consapevolezza che però l'istituzione provincia deve essere rafforzata perché l'istituzione provincia è un'entità che è necessaria e utile al territorio per il governo di aria vasta. Per quanto riguarda i cinque anni trascorsi, qual è la più grande soddisfazione di questa legislatura che si sta concludendo? La più grande innanzitutto è di aver conseguito da subito, dopo sei mesi, la piena autonomia dalla provincia di Ascoli, di averla consolidata in questi cinque anni e il motivo di vanto è uno, che noi in questi cinque anni non abbiamo fatto alcun debito, non abbiamo fatto debiti e soprattutto abbiamo realizzato tutto il mandato che avevamo presentato agli elettori nel 2009 e dal Consiglio Provinciale nel 2010 e di questo noi ne siamo molto orgogliosi. Da fermo ad Ascoli il sindaco Guido Castelli ha firmato un'ordinanza per sequestrare un greggio alle porte di Ascoli infetto da Blutong, malattia degli ovini. Ora seguiranno controlli e un possibile abbattimento dei capi. Rimaniamo nelle Marche, la Regione è la prima a dotarsi di una legge regionale specifica sull'autismo, anzi come recita il titolo dell'atto, sui disturbi dello spettro autistico. L'articolato promuove condizioni di benessere e inclusione sociale per i soggetti affetti d'autismo, garantendo una rete integrata di servizi e percorsi diagnostici, terapeutici, riabilitativi e assistenziali per la presa in carico di minori ed adulti con una dotazione finanziaria di 1,2 milioni di euro. Politica è nato l'intergruppo Marche 2020, vi aderiscono il governatore delle Marche, Gian Mario Spac, il presidente dell'Assemblea Legislativa, Vittoriano Solazzi, Adriano Cardogna dei Verdi, Paolo Esebi dell'Italia dei Valori, Dino Latini, liste civiche per l'Italia e l'assessore del Centro Democratico, Paola Giorgi. Per Solazzi è un ambito operativo tra i diversi gruppi consigliari per prefigurare una coerente piattaforma programmatica di consolidamento dell'esperienza di buon governo delle Marche anche per i prossimi cinque anni. E torniamo ad Ascoli, il capogruppo del Partito Democratico in Consiglio Comunale, Francesco Ameli, torna a parlare della gestione del servizio turistico. Ameli critica l'amministrazione Castelli per avere sbandierato come imminenti progetti mai realizzati. Vediamo. Il capogruppo del PD, Francesco Ameli, critica la gestione del servizio turistico ad Ascoli Piceno e fa il punto su ciò che è stato realizzato e cosa no. A febbraio è stato presentato alla BIT di Milano il portale Visita Ascoli, un portale dedicato esclusivamente al turismo cittadino attraverso il quale il turista si sarebbe potuto orientare verso le proposte cittadine. Insieme a questa iniziativa sarebbero dovuti partire altri due progetti, un pullman turistico, e quella che è stata chiamata l'Ascoli Card, progetti di Chiara Ameli sbandierati alla città come imminenti, ma non ancora realizzati. Nonostante il sindaco, continua la nota, abbia pomposamente annunciato lo scorso febbraio che il portale Visita Ascoli e le iniziative collaterali sarebbero state attive già da maggio, ad oggi non se ne vede la minima traccia. Ora che la stagione turistica va terminando chiediamo chi continua a prendere in giro cittadini ed imprenditori con le sue affermazioni? Quale credibilità possiamo avere verso i potenziali visitatori e gli operatori del settore turistico? Alla BIT è stato affermato che il servizio sarebbe partito insieme ad iniziative collegate, ma nella ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi non si trova nulla di concreto. Riportiamo quello che c'è scritto, continua Ameli. Sono in corso di discussione tecnica-organizzativa per stabilirne la composizione, le modalità e i termini di realizzazione, ovvero sia si stanno predisponendo le linee guida per la concreta fattibilità delle iniziative. Tradotto, non esiste evento favorevole per il marinaio che non sa dove andare. Vorremmo che l'amministrazione cogliesse le opportunità che la nostra città offre, senza perdersi in proclami ma agendo con fatti concreti. Facciamo notare, si legge nella nota, che oggi abbiamo un servizio in meno per la città. Visto che abbiamo tutto l'inverno per rifletterci, vorremmo dare il nostro contributo, iniziando con lo proporre una gestione più collegiale di questi servizi, piuttosto che affidarli ai soliti noti. Infine, prima di cimentarsi in operazioni affrettate, dato che abbiamo notato anche il logo del CUP, lo invitiamo a valutare bene i progetti che gli vengono presentati. Torniamo in Abruzzo. Non ci saranno ritardi nell'attivazione del calendario venatorio della provincia dell'Aquila. Lo spiega in una nota l'assessore alla caccia, Dino Pepe, che afferma i riscontri immediatamente richiesti dalla regione all'ISPRA. Già partecipati alla provincia interessata consentono di ritenere superato l'allarme su possibili ritardi di attivazione del calendario provinciale. In particolare continua la nota per quanto riguarda la lepre. La situazione è stata sbloccata già nella mattinata del 1 ottobre. Di nuovo nelle Marche contro la politica del governo Renzi che aggrava la condizione delle persone del Paese. La sinistra scende in piazza sabato 11 ad Ancona con una manifestazione promossa per le 17.30 in Piazza della Repubblica. L'iniziativa è organizzata dai circoli anconetani di SEL con il Partito dei Comunisti Italiani, Rifondazione Comunista e dal Comitato L'Altra Europa con SIPRAS. Fra gli interventi programmati è anche quello del segretario regionale della CGL Roberto Ghiselli, oltre che del coordinatore di SEL Matteo Cognini. E di nuovo in Abruzzo, degrado, incurria e giochi pericolosi nel parco pubblico della frazione di Salino a Tortoreto. A chiedere un intervento all'amministrazione comunale sono due consiglieri di minoranza, Mauro Postuma e Daniele Mignini, che tornano a sollecitare la Giunta sulla necessità di riqualificare l'intera area. Vediamo. Parco giochi della frazione di Salino ancora a teatro di incuria e di situazioni di pericolo. Il problema, corredato anche da materiale fotografico, viene nuovamente sollevato da due consiglieri comunali di opposizione al Comune di Tortoreto, Mauro Postuma e Daniele Mignini. La problematica era stata sottolineata in una prima volta in Consiglio Comunale lo scorso 18 di agosto, con una richiesta all'assessore con delega alle manutenzioni, Renato Kikirichi, di adoperarsi per ripristinare situazioni di decoro nello spazio pubblico, ma soprattutto di prestare attenzione al tema della sicurezza dei giochi. Purtroppo, dobbiamo constatare che la nuova amministrazione, sottolineano i due consiglieri di opposizione, guidata dalla sindaco Alessandra Ricchi, è rimasta insensibile a queste problematiche, mostrando un vecchio vizio. E' mancata una programmazione di manutenzione semplice, che potesse consentire ai bambini della zona di utilizzare i giochi. Molti cittadini sono scoraggiati da questa situazione, ed è una mancanza di sensibilità, quasi fossero residenti di Serie B. Ma l'amministrazione non annovera tra le sue file, si legge in maniera sarcastica un assessore al decoro urbano, con tanto di decalogo da rispettare per i cittadini? L'ironia a parte, i due consiglieri di zona chiedono con sollecitudine un intervento nel parco pubblico. Il 10 ottobre si celebra la ventitresima edizione della Giornata Mondiale della Salute Mentale, organizzata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, con l'obiettivo di creare una consapevolezza maggiore nelle società attorno al tema della malattia mentale e del disagio psichico. Il tema dell'edizione 2014 della giornata è vivere con la schizofrenia. Nel territorio di San Benedetto, l'appuntamento servirà a far conoscere l'importanza del lavoro che i medici e operatori specializzati svolgono ogni giorno per le persone in difficoltà diversi, i servizi dedicati alla salute mentale che esistono nei comuni che fanno parte dell'ambito sociale 21. Ad ora a Pescara si parla di turismo, le potenzialità del turismo abruzzese, le prospettive di crescita di un comparto della nostra economia da sempre ricco di potenzialità saranno al centro del forum organizzato dalla CNA Abruzzo in programma giovedì 9 ottobre nella sala conferenze delle Torri Camuzzi a Pescara. L'incontro che arriva alla fine di una stagione estiva contrassegnata da un forte calo delle presenze, soprattutto per colpa di avverse condizioni meteorologiche che ne hanno fortemente condizionato l'andamento, servirà a fare il punto delle diverse opportunità che il settore turistico offre. Di nuovo nelle Marche, dopo il restauro ed un assaggio di stagione nascorsa primavera per il carterrone 2014-2015, il Teatro Nuovo di Capodarco di Fermo si pone all'attenzione del pubblico con una programmazione pressoché quotidiana che spazierà dalla prosa alla musica, al cinema, al teatro in vernacolo, fino a veri e propri eventi. Vediamo. Presentata in anteprima la stagione del Teatro Nuovo di Capodarco, il teatro è la mia città e questo è il sottotitolo e per questo è un teatro che vuole essere aperto a tutti, per tutti e soprattutto tutti i giorni. La programmazione che prenderà il via l'8, 9 e 10 ottobre con Pere Landra in realtà è una programmazione mista, densa, ricchissima di tanti contenuti, infatti non soltanto la prosa, ma anche la musica, con la stagione musicale dei canter, contaminazioni e degustazioni musicali, quindi l'abbinamento con il cibo e le degustazioni, ma anche Amarcord, magnifiche visioni, l'opportunità di vedere dei film in anteprima, quei film tanto particolari di cui si parlerà e tanto altro ancora per genitori, nonni e figli, delle proiezioni in particolare, con dei prezzi ridottissimi, ma anche la presentazione di libri con un escamotage, appunto, libri detti letti a teatro, perché saranno letti dagli autori alcuni testi su un letto, appunto. Ma sentiamo cosa ci spiega l'assessore alla cultura, Nunzio Giustozzi. È uno spazio importante che testimonia Fermo come capitale della cultura, perché Fermo è il Teatro dell'Aquila, un grande teatro di traduzione, anche questi spazi meravigliosi per l'espressione delle grandi eccellenze locali del teatro, della musica, della letteratura. Anche un altro appuntamento importante da segnalare tra i tanti quotidiani, quello del 17 ottobre, con il recital di Sergio Soldani, in occasione, appunto, dell'uscita del film Giovane e Favoloso, del 16 ottobre, il giorno precedente, sulla vita di Giacomo Leopardi. Un convegno su come fare impresa nel cratere Aquilano a Montorio Alvomano. Il convegno si terrà domani dalle 17 alle 20 nella sala conferenze del Chiostro degli Zoccolanti. Dopo i saluti del sindaco Giovanni Vicente, interverrà Giulia Zanotti di Invitaglia sul rilancio del cratere Aquilano. A Grotta Mare, un ciclo di laboratori filosofici per tutti, un'occasione per interrogarsi e riflettere sul nostro modo di pensare, di sentire, di essere, per provare a guardare le cose in maniera filosofica. Domani alle 21.15 alla Biblioteca Comunale Rivosecchi di Grotta Mare si inaugura il quarto anno di incontri Vivere la Filosofia. L'iniziativa è organizzata dall'Associazione Culturale Blow Up in collaborazione con la città di Grotta Mare, assessorato alla formazione ai talenti di Informa Giovani in Rete e Filo. E a Teramo, al via la quarta stagione dello Scambialibro, l'iniziativa promossa dall'Associazione Culturale Detto Tra Noi per parlare di libri, condividerli con altri e prendere in prestito quelli messi a disposizione. La rassegna è organizzata in collaborazione con Teramo Nostra nell'ambito della diciannovesima edizione del premio della fotografia cinematografica Gianni Di Venanzio inaugurerà la nuova edizione con un incontro dedicato al grande maestro del cinema Sergio Leone. Torniamo nuovamente nelle Marche. Si è conclusa, affermo, la rassegna Air Terminal, un esempio di democrazia partecipata applicata alla cultura. Iniziativa formalizzata anche al recupero di edifici dismessi seguendo l'esempio anche di altre realtà simili in giro per l'Europa. Vediamo. Si è conclusa la stagione all'Air Terminal, un'operazione che rappresenta un esempio di democrazia partecipata applicata alla cultura. Un dibattito attualissimo ha chiuso all'Air Terminal 2014 con Stephanie Kreuzer, grande esperta di arte contemporanea arrivata dalla Germania. Dopo tanti anni, 13 per l'esattezza, in cui appunto si transitava al maxiparcheggio vedendo questo Air Terminal assolutamente chiuso, tanto da vederlo anche in degrado, si è arrivati ad avere una stagione importante e se ne parla con l'occhio clinico di un'esperienza internazionale tanto vasta da poter valutare l'esperimento fermano in rapporto ad altri casi di riconversione di strutture dismesse in Europa e non solo. Stephanie Kreuzer, curatore responsabile scientifico del Museo Norsobrich di Leverkusen in Germania, ha animato l'ultimo appuntamento di Air Terminal venerdì scorso per poi essere ospite anche di una trasmissione radiofonica sul territorio. Interessante ed attualissimo il dibattito serale al Terminal al cui era presente anche l'assessore comunale alla cultura Nunzio Giustozzi al centro la funzione dell'arte contemporanea nella società in un dialogo aperto tra Cudini l'attento pubblico e la dottoressa Kreuzer già direttore del NAC di Ocean autrice di saggi sull'arte contemporanea ed esperta di semiotica studiata con Umberto Eco alla Kreuzer si affidò nel 2013 la direzione artistica del primo evento espositivo al Terminal progetto che la professionista tedesca aveva seguito passo passo con i tre promotori fermani l'artista Daniele Cudini il fotografo Francesco Musati la designer Cinzia Violoni un'importante conclusione quindi per una stagione che ha visto tanti oratori tanti visitatori e una esposizione importante ricordiamo che l'Air Terminal 2014 aveva aperto con delle installazioni riguardanti l'hotel Casina delle Rose hotel chiuso in attesa di essere ristrutturato e riaperto al pubblico a fermo e un dibattito importante che poneva l'accento proprio sul futuro di questa struttura fermana andiamo a San Benedetto è stato ricevuto stamani in municipio Alessandro Begliere l'ottantenne sportivo originario di Parma che sta percorrendo a piedi tutta la costa italiana isole maggiori comprese ad accoglierlo l'assessore Luca Spadoni che ha omaggiato il maratoneta di una felpa con il luogo del comune di San Benedetto del Tronto partito il 9 giugno da Ventimiglia dopo 137 tappe che toccheranno tutti i luoghi ed i porti del bel paese Begliere raggiungerà Trieste il 24 di ottobre giorno del suo ottantunesimo compleanno dopo aver camminato per circa 4.600 chilometri ed ora a controguerra Isleere e Palestina il confine armato è il tema di un'iniziativa in programma sabato prossimo appunto a controguerra nell'ambito della rassegna emergenze mediterranee dedicata alla promozione dei talenti emergenti della musica del teatro e della letteratura nel contempo dell'approfondimento dei temi che animano il dibattito internazionale sabato 11 ottobre alle ore 18 si terrà nell'enoteca comunale l'incontro con il giornalista analista di Limes ed esperto di Mediorrente Umberto De Giovannangeli che parlerà delle ragioni storiche degli esiti attuali e delle possibili prospettive della questione palestinese ora guardiamoci le previsioni del tempo bentornati al nuovo appuntamento con Metolo Catelli vediamo le previsioni per mercoledì 8 ottobre sulla nostra penisola il cielo sarà prevalentemente sereno al sud e sulle isole mentre al nord avremo il rischio di qualche piovasco vediamo le previsioni per Marche e Abruzzo il cielo sarà sereno con qualche lieve nuvolamento nella zona interna e sulle Marche le temperature oscilleranno intorno ai 25 e 23 gradi vi ringraziamo per averci seguito arrivederci benvenuti a G Sport parliamo di calcio cominciamo dalla Lega Pro ritrovato il successo a Savona dopo 4 turni Lascoli si appresta a vivere la prima grande sfida della stagione anticipata a venerdì alle ore 20 a 45 al Del Duca contro il Forte Pisa le squadre sono appaiate in classifica a quota 12 ad un punto dalla Battistrada a Spal che il giorno seguente nell'anticipo del sabato a Ferrara con inizio alle ore 20 e 30 riceverà un incerottato Teramo reduce dalla sconfitta interna con l'Aquila dal dover assorbire anche la brutta tegola del serio infortunio a Fiore che resterà fuori dai campi di gioco per diversi mesi nel prossimo turno sempre di sabato l'Ancona sarà di scena a Forlì e l'Aquila riceverà la visita della Lucchese ora parliamo di basket parliamo del campi basket torniamo al vittorioso esordio di domenica della squadra di coach Castorina in poco più di due minuti nel servizio che segue tutti i canestri della formazione Farnese nella gara interna contro il Falconara vediamo di domenica Grazie. 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 Arrivederci.